cari amici e spettatori si è conclusa anche questa edizione di tale quale con la vittoria di marco carta devo dire che è stato un bellissimo un bellissimo finale di trasmissione tante grandi imitazioni un grande federico angelucci che ha imitato perfettamente loretta goggi ma è stato bravissimo anche claudio lippi tutti gli altri è stato veramente un finale con i fiocchi ed è stato giusto che abbia vinto marco carta perché con tutto il percorso che ha fatto ha meritato di vincere e così è stato un grande finale speriamo possa ritornare una prossima edizione tale quale con altri personaggi altri interpreti bravissimi tutti non escludo uno tutti avrebbero meritato un posto veramente d'onore perché si sono impegnati veramente molto ed è stato bello insomma aspettiamo con assia la prossima edizione e dal vostro samuele è tutto al prossimo video ciao 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 ciao